Il medio corso del fiume Brenta si estende per 70 chilometri tra le province di Vicenza e Padova. Fornisce acqua potabile a oltre 1,5 milioni di persone nel Veneto, circa il 30% della popolazione regionale. Un'area di grande rilevanza ambientale, parte della rete ecologica europea Natura 2000. Dal 2019 il progetto Life Brenta 2030 si prende cura del medio Brenta per migliorare la gestione del territorio, tutelare la risorsa idrica e conservarne la biodiversità. Un progetto fatto di persone e impegno con gli enti locali, cofinanziato dal programma Life dell'Unione Europea. Cinque anni per affrontare tre questioni fondamentali. La mancanza di una buona governance in grado di gestire l'area in modo efficace e strutturato. L'abbassamento della falda acquifera legato a fenomeni antropici e alla crisi climatica. L'uso intensivo dell'area per scopi agricoli e ricreativi con il rischio di perdita della biodiversità. Tre questioni chiave a cui abbiamo risposto con soluzioni innovative. Un percorso partecipativo di governance locale e la costruzione di una vision strategica per il futuro dell'area. Un sistema di finanziamento innovativo che include i costi ambientali e della risorsa all'interno della tariffa idrica, con la creazione di un fondo ambientale dedicato alla conservazione della biodiversità. Incontri ed eventi di sensibilizzazione con la cittadinanza, le scuole e gli agricoltori. Interventi di ripristino, conservazione e riduzione degli impatti dell'uomo. Un servizio dedicato di sorveglianza e raccolta rifiuti. Risultati che vanno oltre le aspettative, fino ad individuare nel Consiglio di Bacino Brenta un nuovo ente gestore operativo. Punto di riferimento per nuove sinergie, tra gestione dell'acqua, biodiversità e rifiuti. Per una gestione più vicina e attenta al territorio. Ma il nostro compito non è ancora finito. Tre nuovi progetti sono appena iniziati per continuare il nostro percorso di salvaguardia al 2030. In Water, per il miglioramento della governance. Nut Connect 2030, per il ripristino e la conservazione ecosistemi. Waste Reduce, per la gestione e il controllo dei rifiuti. Fai la tua parte nella più grande iniziativa per migliorare il fiume Brenta. Unisciti a noi su Grazie a tutti. Grazie.